Si è ufficialmente aperta la Rocca dello Mastro Giurato nel quartiere storico Civitanova a Lanciano nell'ambito della settimana medievale che culminerà con la sfilata del Corteo Storico del Mastro Giurato il 1 settembre. Tante le novità di questa edizione a partire dallo spazio dedicato all'artigianato per finire agli spettacoli. All'interno delle torri montanare si svolgerà il mercato medievale internazionale con percorsi di storia dove la cultura si fa spettacolo per grandi e piccini, un viaggio anche culinario nella locanda del mercante con pietanze ricercate tipiche come la pizzonta e il torcinello, dolce aromatizzato alla cannella e al cocco. Dalle ore 20 ogni 30 minuti vanno in scena spettacoli con gli armigeri che simulano battaglia all'ultimo sangue con spade, scudi e mazze, le danzatrici del ventre, i suonatori di rock medievale celtico con i tipici suoni delle zampogne e dei tamburi e per il secondo anno consecutivo l'arte di piro etnico in arte Simone che incanta e danza con il fuoco dall'inizio alla fine dello spettacolo coinvolgendo il pubblico che lo segue ammirato nei volteggi e nelle acrobazie. E naturalmente spazio anche quest'anno ai giochi medievali per bambini in legno che tanto successo hanno riscosso e alla giostrina che si aziona manualmente che fa volteggiare i bambini su seggiolini in legno. La prima serata ha già fatto registrare il pienone, ha commentato il presidente dell'associazione Danilo Marfisi l'ingresso alla Rocca ha ricordato costa 3 euro, l'abbonamento a tutte le serate 10 i bambini accompagnati fino all'età di 6 anni entrano gratis.